Dottor Gornieri, ieri c'è stato uno dei primi passaggi che l'amministrazione comunale deve fare per l'approvazione e per l'adeguamento della legge regionale Piano Casa nel Comune di Chioggia. Sappiamo che ci sono state un po' di difficoltà in Commissione. Domanda, ma è una cosa importante sollevare questioni sul metodo invece magari di ragionare sul provvedimento più monetizzazione, meno monetizzazione, spazi, non spazi, distanze, eccetera? Allora, è evidente che il merito, cioè che tipo di, come posso dire, recepimento fa il Comune di Chioggia rispetto alla legge regionale, è chiaro che il merito è molto più importante che non gli aspetti procedurali. Però è anche vero che non ci possiamo permettere di andare all'approvazione di una deliberazione dove ancora non sappiamo, per esempio, se la Giunta ha fatto proprio il provvedimento. Sarebbe come dire che qui c'è una legge dello Stato e che ci mettiamo d'accordo in 4-5 consiglieri di accettare questa legge, ma la Giunta ancora non ne sa nulla. Io credo che questo non sia possibile. C'è poi una velocità che ci lascia stupiti. hanno fatto ferie per 100 giorni, improvvisamente si ritorna dalle ferie a pancia piena e si arriva in commissione presto, presto, perché adesso abbiamo la fregola di approvare il provvedimento e tante altre vicende. Noi siamo disponibili a fare una discussione serena e paccata. Crediamo che questa legge possa avere anche degli aspetti importanti. Mettiamoci a discutere però su un presupposto di legalità, di legittimità e di rispetto delle regole. Va bene, grazie dottor Onel. Consigliere Lucio Chiozzo, se non sbaglio proprio qui fuori, abbiamo fatto l'ultima intervista sul piano caso che era appena stato approvato in sede regionale. Adesso il periodo estivo è finito, anche se oggi continua a fare un caldo estivo. Sui giornali c'è un po' anche strascico di polemica di alcune delle minoranze. Come si sta orientando la maggioranza con i provvedimenti comunali? Intanto il piano caso è stato approvato a livello regionale anche con l'apporto del Partito Democratico. Noi ritenevamo giusto rilanciare l'economia della regione attorno al settore edilizio. Siamo in un momento di difficoltà economiche generali. C'è un problema di tipo occupazionale molto forte nel settore edilizio. Quindi piano casa come rilancio del settore, ma anche come opportunità per tante famiglie, per tanti imprenditori anche che vogliono investire in questo comparto. Adesso io credo che sia inutile fare sterili polemiche. C'è una proposta che fa la maggioranza di piano caso, un'interpretazione che viene data. Credo che sia un'interpretazione aperta. L'opposizione piuttosto che trincerarsi su aspetti sterili, sui tempi, sulle modalità e così via, si concentre piuttosto sui contenuti del piano caso. La proposta che è stata fatta dalla maggioranza, è una proposta valida. Tiene conto dei bisogni dei cittadini, tiene conto dei bisogni per esempio degli imprenditori turistici della nostra città che hanno bisogno di adeguare le loro strutture e credo che il piano caso sia un'opportunità veramente importante per il nostro comparto turistico. rispondiamo ai bisogni delle strutture economiche, artigianali, commerciali della città. Credo che questa sia la domanda piuttosto che trincerarsi su un dibattito. Se la delibera è stata presentata un minuto prima o un minuto dopo, tentiamo di confrontarci e io invito le minoranze a confrontarsi sui contenuti, così come abbiamo fatto noi a livello regionale. Se c'è la possibilità di arrivare lunedì e martedì prossimo, ci sono due commissioni e poi il Consiglio Comunale, se c'è la possibilità di far sintesi unitaria su questi obiettivi, credo che sia utile per tutta la città. Eviteremo di dare un'immagine ancora una volta della politica cittadina molto rissosa, che oggi ha bisogno di uscire dallo schema della rissa, ha bisogno magari di dividersi su contenuti ideali, importanti, su obiettivi anche diversi, ma credo che sul piano casa, che è un'iniziativa di tipo economico, che crea occupazione, che crea sviluppo, che risponde ai bisogni delle famiglie e delle imprese della città, credo che questa iniziativa debba essere colta sicuramente in termini positivi, evitando polemiche che non aiutano nessuno. Una domanda che mi viene, che questi giorni abbiamo avuto modo di scambiare anche con amici, e visto che tu, passo dal tuo a lei, hai anche la possibilità di confronti con altri colleghi regionali, quindi altre realtà, del Padovano, del Vicentino, del Veronese, ma adesso a Chioggia, Sottomarina, dintorni, ci sono una strage di case incostruziosi, tantissime, ma tutta questa gente, a chi ci andrà a abitare? Non è forse un'interpretazione troppo estesa di questa legge regionale? Intanto il Veneto è stata una delle prime regioni all'utilizzo del piano casa, e abbiamo creato sicuramente un'economia importante, e è altrettanto vero che esiste un problema, non solo di chi ci va a abitare, ma anche di cosa facciamo. Noi dobbiamo, quel piano casa, con la delibera nostra, evitare storture, iniziative che vadano a ledere anche gli interessi di terzi e della collettività più interna in generale. Se a Chioggia c'è stata tanta richiesta, è evidente che c'è un sistema che ha queste necessità, ci sono state anche tante famiglie, tanta prima casa, per esempio, utilizzata. La legge nasce soprattutto per rispondere intanto alla prima istanza, al bisogno di una famiglia di allargarsi. Anch'io sono convinto, non ho nessun problema a dirlo, che il tema dello sviluppo edilizio della città è un tema che va visto con grande attenzione, perché fra un po' in una situazione economica depressa, dove non c'è lavoro, la gente continua a perdere opportunità di crescita anche economica, che poi alla fine non ci siano i soldi per poter comprare questi appartamenti. Semmai c'è anche il problema della rivitalizzazione di due centri storici, di Chioggia e Sottomania. Qua l'altro problema che dobbiamo porre all'amministrazione comunale è la seconda delibera, perché il piano casa agisce anche, se l'amministrazione vorrà, anche all'interno dei centri storici. Quindi questione delicate, come interveniamo in questo caso. Credo che il mondo imprenditoriale che ha lavorato nel settore edilizio oggi debba ripensare questo modo di intervenire e ci sia bisogno magari di investire molto di più nei settori produttivi, settore turistico, tema delle darsene, il tema di creare nuovi posti di lavoro, perché poi alla fine le nuove case vengono comprate da chi è in grado di farsi un mutuo e quindi siamo tutti chiamati, maggioranza e opposizione, a pensare quale sviluppo dare nella nostra città. Grazie, consigliere.